Prima l'assenza di neve e di infrastrutture per l'innovamento programmato, poi il maltempo e le precipitazioni troppo abbondanti che hanno provocato una slavina che ha rivolto i tralici dell'elettricità, hanno segnato fino ad ora una tra le stagioni scistiche peggiori per il Gran Sasso e gli operatori del settore. Nei giorni scorsi i lavori pianificati dal centro turistico del Gran Sasso insieme a E-Distribuzione riguardanti la sostituzione dei sostegni dell'elettrodotto in MT che alimenta l'insediamento turistico di Campo Imperatore non sono stati avviati in quanto si è reso necessario un supplemento di indagine che accertasse la reale consistenza del rischio valanghe. Una notizia che ha gettato nello sconforto quanti vivono e lavorano nell'unica stazione abruzzese a non avere ancora aperto i battenti accusando un gap che difficilmente potrà essere colmato nei prossimi mesi. Tutti sanno infatti che il periodo d'oro per le stazioni scistiche è quello delle festività natalizie trascorso il quale si può solo migliorare se si è chiusi invece come a Campo Imperatore la strada è tutta in salita per cercare almeno di contenere le perdite. Il miglioramento delle condizioni climatiche però ha riportato un po' di sole anche nei cuori di albergatori e maestri di sci. Il centro turistico del Gran Sasso infatti ha informato che la commissione valanghe ha dato il parere positivo all'intervento di E-Distribuzione per la sostituzione dei sostegni dell'elettrodotto in MT che alimenta l'insegnamento turistico del Gran Sasso. L'apertura degli impianti salvo ulteriori imprevisti è programmata per la metà di questa settimana. Resta l'avvertimento però lanciato nelle scorse settimane. Si potrà salire in quota ma verosimilmente solo per sciare sulle piste battute. Dal bollettino meteo a moto infatti emerge il rischio valanghe marcato su tutto l'appennino centrale.